Riprogetto le slide di Jacopo. Da così a così. Le slide sono coerenti a livello di stile. Forse il nero posizionato sul verde incubisce un pochino troppo. E soprattutto il carattere monospace è difficile da leggere. Questa volta mi concentro sull'indice. Nella versione originale sono riportati i titoli di ogni slide. Io ho ridotto il numero di punti a 4, ipotizzando di inserire dei divisori di sezione che raggruppino i diversi argomenti. Ho sfruttato la grafica dei cerchi in modo funzionale, posizionando un cerchio accanto ad ogni punto dell'indice. E visto che si tratta della presentazione di un progetto di design, ho esagerato un po' con la dimensione dei numeri di pagina. Il nero incupiva davvero troppo, quindi nella mia versione ho alternato verde, beige e bianco. Inoltre ho reso più chiaro lo schema dei colori di sfondo che prima si alternavano. Ora copertina e divisori di sezione sono verdi, indice e contenuti sono beige. Questo è il risultato finale. Cosa ne pensate? Vi aspetto nei commenti.